Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico In questa puntata andremo a discutere rapidamente del tema Quanto contano le copertine di Youtube nei confronti della descrizione del video e il SEO Copywriting annesso al video Partiamo subito perché il video è parecchio lungo Allora, la descrizione del video a cosa serve? Il motore di ricerca di Youtube valuta la coerenza tra testo e descrizione del vostro video e lo confronta anche con il contenuto del vostro parlato Le traduttori in italiano non sono particolarmente accelsi ma sono sufficienti per comprendere se la descrizione del video, il titolo e quant'altro avete messo nella descrizione appunto testuale del video è coerente con quello di cui poi voi andate a discutere C'è poi anche un software OCR che non di rado valuta il contenuto del video osservando immagini e filmati in modo per valutarne la coerenza Se il video quindi è coerente viene posto nella SERP per le parole chiave indicate e anche eventualmente per le correlate anche se qualora voi non le avete indicate Allora, io stesso vi confesso che molto di rado vado a vedere le informazioni aggiuntive sul filmato ci vado a sbirciare solo se il filmato è sintetico dice quello che deve dire in poco tempo andando al punto senza prendere diciamo circunnavigazioni prolisse Se poi il filmato, pur essendo lungo, ha all'interno anche del minutaggio in modo da segmentare gli argomenti permettendo all'utente di saltare da eventuali parti del filmato allora la cosa è obiettivamente gradevole e apprezzo assai questo elemento del filmato questo perché purtroppo la gente non legge le descrizioni dei filmati si limita a osservare praticamente le iconine quindi le copertine e il titolo del video quindi sorge automaticamente il tema le copertine obiettivamente servono per attirare l'attenzione degli utenti questi di solito appunto non leggono la descrizione del filmato ma solo il titolo e al limite le due pochissime righe annesse al filmato di youtube prima che l'opzione show more cieli praticamente il resto della descrizione ora per parlare di copertine bisogna fare un brevissimo corso di affissioni pubblicitarie questo per valutare la efficacia dell'affissione pubblicitaria quindi automaticamente la efficacia di una copertina la prima affissione pubblicitaria di cui discuterò brevemente tra una breve sintesi di affissioni per parlare rapidamente dei concetti generali come potete vedere a video a mio avviso questa è piuttosto caotica c'è un'immagine ci sono parecchio scritto parecchio addensato sgaggia un numero di telefono e poi c'è il brand che non è particolarmente leggibile diciamo perché è scritto piccolino e comunque la sovrasta diciamo una immagine sulla testa una cosa che attira immediatamente l'attenzione è l'omino sulla scala sospeso apparentemente per aria che a colpo d'occhio non sembra praticamente una affissione ma sembra proprio un uomino che stia appicciando la roba mancando una parte della scala l'occhio praticamente attira viene attirato da questo particolare e diciamo l'inizio dell'attenzione su questa affissione a mio avviso emerge appunto dalla carenza della scala che manca in fondo poi la prima cosa che salta agli occhi è l'affissione appunto femminile poi c'è tutta una serie di scritti che sono tutti appicciati insieme e a mio avviso non risulta particolarmente intuitiva da leggere e da comprendere e quindi diciamo è un esempio in cui viene mescolato immagini e parole in modo decisamente troppo denso decisamente più pulita chiara e immediata è la seconda esempio di affissione in cui svetta all'inizio proprio in modo esorbitante diciamo il prodotto quindi la patatina poi abbiamo l'amica chips con il brand e accanto appunto l'immagine della patatina quindi la patatina e la confezione di patatina e poi sopra abbiamo una scritta che è evidentemente equivoca e fa diciamo in un certo quel modo a doppio senso con l'eventuale osservatore che fosse diciamo stato attirato dalla gigantografia delle patatine oppure dalla busta delle patatine fritte un esempio diciamo di affissione pulita chiara in cui è presente il prodotto il brand e un claim che tende praticamente a strizzare l'occhio all'osservatore cercando in un qualche modo di far ricordare diciamo il prodotto o diciamo il brand che sta osservando un altro esempio di affissione è quella che potete vedere a video dove praticamente svetta in modo gigantografico il prodotto dei panini di McDonald's abbiamo i tre panini con il logo a destra del McDonald's quindi i tre panini sono inequivocabilmente riconoscibili essendo il prodotto quello che poi in basso diciamo emerge suppongo che siano gli indirizzi dei luoghi diciamo delle zone dove sarebbe possibile trovare praticamente i ristoranti McDonald's in modo da rendere immediato praticamente il messaggio questi panini vi li trovate probabilmente nelle aree delle zone indicate dell'affissione chiaro immediato abbastanza pulito anche se diciamo è un po' diciamo esorbitante le troppe scritte che possono essere diciamo collegate sopra al prodotto che possono diciamo disorientare un po' l'occhio attira l'attenzione ma è decisamente equivoca a mio avviso la quarta affissione che potete vedere a video svetta una bicicletta che è immersa in una bicromia che attira immediatamente l'occhio poi c'è una scritta in alto in modo molto grande diamo una seconda mano un po' meno leggibile quello che c'è alla destra sia alla natura diamo una seconda mano poi si vede la biciretta sinceramente l'impressione che se ne ricava è che sia un posto dove tingono le bicirette non si capisce bene cosa ci faccia praticamente una specie di fiore lì sulla destra poi è chiaro in fondo a sinistra il logo del Decathlon ossia del brand e l'idea generale che a mio avviso velocemente un occhio di un osservatore si fa di questa affissione è che a Decathlon abbiano messo un servizio dove tingono le bicirette ovviamente non è proprio esattamente così perché se si va a vedere quando nello scritto più piccinino è un altro tipo di prodotto quindi a mio avviso io evidenzierei questo tipo di affissione con come praticamente un esempio chiaro che attiva immediatamente l'attenzione dell'occhio con la bicromia ma che poi veicola un messaggio che è completamente frainteso dall'occhio umano e dalla velocità in cui solitamente noi dedichiamo all'affissione sia la pochissima attenzione gli elementi che emergono in questa affissione tendono a dare delle informazioni che non sembrano diciamo coerenti con quanto comunicato quindi tendono a sviare dall'informazione e dal messaggio principale più chiaro invece l'esempio numero 5 in cui l'occhio praticamente viene immediatamente attirato dalla presenza dell'attenzione diciamo di Babbo Natale con diciamo tutti i pacchi regali e le renne poi con la scritta Babbo Natale che rafforza il messaggio del disegno poi c'è un piaspetto dove si apisce che c'è praticamente Babbo Natale che parla che parla sotto a Parma immediatamente si apisce che Babbo Natale è a Parma e un poco più in alto sulla sinistra si nota il Parco della Cittadella è immediato il messaggio per cui sotto le feste di Natale al Parco della Cittadella probabilmente un iperstore o una città mercato o un superstore è presente Babbo Natale o comunque una specie di festa o comunque dei figuranti di Babbo Natale oppure delle eventuali diciamo sconti o offerte speciali sotto il periodo natalizio quindi è piuttosto chiaro anche se diciamo il messaggio del Parco della Cittadella è messo un po' in alto sulla sinistra e non è immediatamente diciamo evidente come il forte messaggio con la scritta Babbo Natale a Parma comunque nel complesso questo è un esempio diciamo di messaggio piuttosto chiaro ed univoco quindi sia il testo quanto l'iconografia e il disegno non attira l'attenzione praticamente quest'altro esempio numero 6 dove praticamente su uno sfondo nero che è diciamo simile sul grigio del muro che è presente questa affizione svetta un numero di telefono e la scritta per la tua pubblicità il messaggio è chiaro praticamente se si vuol andare a occupare questo spazio pubblicitario se si fosse interessati si può andare a chiamare questo numero io considerai un esempio diciamo di pubblicità piuttosto di un'affizione piuttosto discreta che non attira particolarmente l'attenzione a causa dello sfondo nero che è stato scelto proprio da mettere in un contesto in cui c'è un grigio per cui non attira particolarmente l'occhio però il messaggio è semplice ed è chiaro ed è decisamente immediato attira invece subito l'occhio questo esempio di affissione su uno sfondo azzurro questo cartellone arancione con le scritte bianche un picco in un occhio che automaticamente attira diciamo l'attenzione più complesso la scritta che è molto lunga e decisamente complottista se fosse stata più breve diciamo il messaggio testuale avrebbe secondo me avuto una resa superiore comunque di per sé questo è un esempio con il contrasto tra il cielo tra il cielo azzurro e il colore praticamente arancione con le scritte grandi bianche in cui pur non essendoci nessun disegno l'occhio viene comunque attirato da questo forte contrasto ultimo esempio di affissione è questo che è decisamente più caotica dove una serie di immagini praticamente seppur disposte in linea saturano praticamente la vista dell'osservatore si capisce su in alto con il grosso logo risparmio casa iper che si tratta evidentemente di un supermercato e in fondo le grandi scritte bianche in campo azzurro danno praticamente i luoghi dove è possibile trovare questi iperstore nel complesso il messaggio dell'affissione a mio avviso risulta chiara anche se è un pochino caotica con la presenza di troppi prodotti sono però diciamo chiari ben evidenti i prezzi civetta degli articoli con gli indirizzi dei luoghi dei supermercati è un pochino più caotica appunto tutta questa presenza di immagini seppur messe in fila che saturano a mio avviso l'occhio ok adesso andiamo a tirare brevemente le fila sul tema appunto delle cover per i vostri podcast quindi le copertine io per questo podcast ho studiato tre tipi di cover che sono qui a video e che potete osservare secondo voi di queste tre cover qual è la copertina che è più efficace e che immediatamente attira l'attenzione e comunica in modo diretto e chiaro il contenuto del podcast di cui vi ho ragionato sino adesso andiamo quindi a tirare le fila dopo questo breve escursus fare personal branding mettendo il vostro faccione nella cover in sé 40x480 non superiore a 2 mega non aiuterà gli utenti a capire di cosa volete discutere nel vostro podcast ma il vostro faccione gigantografico sarà solo una grande manifestazione idonistica questo se non avete già un'autorevolezza ed un canale youtube ben avviato per cui la vostra figura rappresenta in un certo quel modo un marchio o ad un brand come invece si è visto cover semplici senza immagini complesse evidenziando in primo piano il prodotto o il servizio di cui voi vorrete andare a parlare nel vostro podcast con un brevissimo testo a supporto dell'immagine con un testo che sia coerente con l'immagine in modo da evidenziare di che cosa voi volete andare a parlare nel vostro podcast ecco questo a mio avviso è un messaggio chiaro e semplice un messaggio potente perché è immediatamente comprensibile dagli utenti i quali a mio avviso lo apprezzeranno sia se siano interessati praticamente al vostro podcast sia che non lo siano e vi scartino però almeno avranno a colpo d'occhio subito l'idea di cosa voi andrete a discutere nel vostro podcast in funzione della cover se il tema del podcast è astratto o complesso e non è identificabile con un'immagine chiara e semplice ed univoca evitate di fare metafore usando immagini perché sviereste o depistereste la comprensione dell'utente nei confronti del contenuto del vostro podcast facendo poi in bestialiere gli utenti che una volta compreso quando vi hanno selezionato e vi hanno cliccato che hanno scelto il video errato chiuderanno subito impietosamente il file quindi il mio consiglio è se il tema del podcast è astratto o complesso allora è meglio mettere delle brevi parole o frasi per evidenziare il tema rarefatto del podcast ricordatevi che quando fate una cover il vostro video di youtube è un po' come una fissione pubblicitaria nel meno ci sta sempre il più